Manuela Costa, siamo qui al Palo Alberti, state preparando una partita contro Piazza Armerina ma venite da un successo importante fuori casa sul campo della Basket School Messina, una squadra che in casa aveva fatto belle prestazioni e che con voi invece ha trovato grandi difficoltà, avete dominato dal primo all'ultimo minuto, raccontaci un po' questa partita di domenica scorsa. È stata una partita bellissima, abbiamo segnato di tutti i lati ma siamo piedi su terra perché sappiamo che la partita prossima è una partita troppo difficile, è una squadra difficile e non posso dire più perché noi siamo ancora, la squadra è ancora crescendo troppo e niente, è solo questo. Piazza Armerina sicuramente è un avversario temibile, una prova importante per voi, che siete un gruppo giovane ma ha grande voglia di far bene in campo, l'avete dimostrato fino a ora? Sì, 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 noi siamo una squadra giovane che c'è troppo voglia di vincere e niente, come ho detto prima è una squadra come Piazza Armerina, sarà un giorno difficile per noi. Ma sappiamo che noi facciamo tutto per vincere. Ecco, tu sei qua a Barcellona da quest'estate, sei stato forse uno dei primi ad arrivare qua a Barcellona. Come ti sei ambientato, come ti sei trovando in questa esperienza barcellonese? Niente, è il primo giorno che per me questo è una famiglia e niente, io solo voglio stare qua per vincere. Ecco, hai dato il tuo contributo in queste partite, anche se partendo dalla panchina, però è stato importante in diversi momenti, siete un gruppo, una famiglia, ognuno fa quello che può per il bene della squadra, questa è l'impressione dall'esterno? Sì, certo, certo. Qualcuno ha il suo ruolo e come il mio ruolo è difendere, per esempio, io faccio tutto solo per vincere con la squadra e con questa persona è felice. Un'ultima cosa per i tifosi che domenica scorsa sono stati il sesto uomo anche fuori casa, ma che in casa si sono esaltati e vi hanno fatto esaltare in queste prime partite. Cosa ti aspetti per la partita contro il Piazza Armerina? Sì, certo, certo. È una tifosi veramente buona e questo è lo che fa a vincere la partita. È veramente in casa, è un'altra cosa. Llevare in casa contro la Piazza Armerina con la tifosi che vogliamo noi è incredibile. Ti aspettiamo tutti qua nel Palazzo.